5, 4, accenno sinistro per accenno destra per destra veloce, in sinistra veloce, per accenno destro 50 e destra veloce lunga, alla seconda pianta diventa 4 meno meno, dossata 100 molta attenzione, sinistra 3 più più, sinistra 3 più più, molta attenzione, sinistra 3 più più 70, sinistra 3 meno meno con destra 2, sinistra 3 meno meno con destra 2 30, bravo così, destra veloce, dossata, in sinistra veloce, 50 destra 5 meno meno, in sinistra 3 meno meno, gira lunga, scivola, scivola, occhio giro qui, è sporco eh per accenno destro, in accenno sinistro, per sinistra veloce, 30 destra 4 più più, 30 sinistra 4 meno meno, in molta attenzione, in versione destra non anticipare, in versione destra non anticipare vai, in sinistra veloce, 100 destra veloce, anticipa, occhio che scivola eh in sinistra veloce 70, attenzione, sciganna entra destra sciganna entra destra, occhio che so strette bravo, 70 sinistra veloce, 300 attenzione, sciganna entra destra, come prima sciganna entra destra no, 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 no grandissimo vai, fa niente, calma te 30, destra veloce 200 attenzione, sciganna entra destra occhio alla staccata eh vai 30, sinistra veloce anticipa 70, destra veloce per accenno sinistro in destra 5 più più anticipa destra 5 più più anticipa per accenno sinistro dossato per molta attenzione Albiro destra 4 più più, ritardo anticipa scivola scivola 100 bravo sinistra 5 più più in tieni filo e sinistra 5 più più anticipa con destra 5 più più, lunga lunga 30 Albiro, sinistra 3 più più anticipa madonna sinistra 3 più più anticipa 50 50 destra veloce in molta attenzione in versione sinistri molta attenzione in versione sinistri bravo per accenno destro 50 destra veloce anticipa 30 sinistra veloce anticipa per destra 4 più più 50 destra 5 meno meno 30 30 molta attenzione Albiro sinistra 3 più più destra 5 meno meno sinistra 3 più più chiude 2 non lo fai proprio lo staccate 200 vai calmo così 200 destra 5 meno meno 50 attenzione destra 4 più più lunga e inizio real chiude 4 meno meno e inizio real chiude 4 meno meno 50 sinistra 3 sinistra 3 più più gira lunga lunga sinistra 3 più più gira lunga lunga 70 destra 3 più più gira lunga 70 destra 3 più più gira lunga 70 destra 5 più più vai così calmo destra 5 più più 30 sinistra 4 meno meno gira lunga 50 destra 5 meno meno lunga lunga fino al cartello e al cartello anticipa 5 meno meno lunga lunga fino al cartello e al cartello anticipa occhio per sinistra 5 meno meno in ritardo al muretto diventa 4 meno meno lunga e tieni per destra veloce per destra 4 meno meno destra 4 meno meno 30 destra 5 meno meno sacrifica sinistra 3 più più gira lunga sinistra 3 più più gira lunga in destra 4 più più gira destra 4 più più gira per sinistra veloce Dossata anticipa 70 sinistra 5 più più 30 molta attenzione Strettoia ricorda qui Strettoia 30 sfiora palo in destra 4 meno meno Dossata scende per sinistra veloce anticipa 70 destra 3 più più lunga al muro sfiora per sinistra 3 più più apre fino all'ingresso sinistra 3 più più in destra 4 meno meno anticipa per sinistra 4 meno meno fino al birro diventa 3 più più diventa 3 più più questa per destra 3 più più lunga rasa in sinistra 3 più più lunga occhio qui sinistra 3 più più lunga 70 destra veloce 70 destra 3 più più gira lunga lunga destra 3 più più gira lunga lunga con sinistra veloce sinistra veloce 70 sinistra veloce e 50 sinistra 3 più più anticipa sinistra 3 più più anticipa in sinistra 4 meno meno sinistra 4 meno meno per sinistra veloce, per destra veloce 30, destra 5 più più in sacrifica al bilo diventa 3 più più sacrifica al bilo diventa 3 più più 50 sinistra veloce 70 sinistra 3 meno meno sinistra 3 meno meno occhio sta staccato eh 30 accenno destro ma è tutto giù adesso per dosso Dini c'entro in allungo 150 a rail sinistra veloce anticipa per destra veloce 50 e sfiora muro sinistro occhio qui sfiora muro sinistro e destra 3 più più gira lunga lunga bravo 70 bravo sinistra veloce lunga 30 destra veloce lunga 50 addosso Dini c'entro 70 addosso Dini c'entro occhio 70 addosso Dini c'entro per dosso Dini c'entro e 50 sinistra 4 meno meno lunga lunga vai che è quasi finita 30 sinistra 4 più più lunga e compressa ricorda qui sinistra 4 più più lunga compressa 50 addosso Dini c'entro e 150 compressione vai per destra 5 meno meno lunga lunga fino al palo 5 meno meno lunga lunga fino al palo 30 sinistra veloce su fine vai così occhio eh 755 bravo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti